Sono arrivati a metà maggio Caterina e i suoi meravigliosi otto cucciolotti. Quattro maschi e quattro femmine erano stati recuperati dalle campagne feintine dopo una segnalazione arrivata al canile. Dopo le prime visite si è fatta risalire la nascita degli otto pelosetti all'incirca a metà maggio. La mamma e i suoi adorabili pelosi sono stati cippati e vaccinati, oltre che sverminati, e ora sono pronti ad essere accolti nelle vostre famiglie. Caterina ha all'incirca tre anni e verrà consegnata già sterilizzata. Si sta infatti aspettando che completi l'allattamento dei piccoli per poi farle assumere medicinali per l'interruzione della produzione di latte, in modo da effettuare la sterilizzazione in condizioni di massima sicurezza del cane. Sono tutti adorabili e la mamma è davvero affettuosa e tranquilla, anche se non particolarmente adatta alla vita d'appartamento. Sono al canile di Via Righi e stanno aspettando solo voi, come tutti gli altri pelosi, ospite al rifugio del cane Empa. Francesca, diretta per Faenza Web TV.